oi figlio come stai? come stai? come fai? diciamo che andiamo avanti che mi dici? che ti dico che stanotte ho avuto una brutta sorpresa che è successo? a casa è entrato un lato a casa tua? si immagino che spavento ti sarai preso certo però poi ho preso coraggio sono andato nella stanza e ho visto che stanno cercando i soldi e ho detto vabbè ora mi metto a cercare pure io insieme? e certo poi a un certo punto quella capita che non ci siamo andati io io gliel'ho detto a voi amico dove stai? penso che a un certo punto si è messo a piangere pure e mi sono andato pure io con lui tanto era disperazione penso che prima di andare via mi ha lasciato pure una cosa sola anche? si poi è andato sul balcone e si è assiutato a sua posta incredibile però non ci stanno più i ladri di una volta no e non ci stanno più neanche per chi sta giù